E senza benzina o gasolina Consumare meno per riscaldare meglio Per risparmiare energia senza rinunciare al calore Eurocom Edilizia Pedini ti offre tutte le soluzioni per trascorrere il tuo inverno al scaldo e all'insegna del risparmio Stufe a pellets e a legna, termocamini e inserti E da non perdere l'offerta dell'inverno 2008 Atos La nuova idrostufa a pellets targata MCZ Eurocom, la scelta giusta Eurocom, la scelta giusta